Stiamo vivendo momenti particolari in Stardom, momenti che ci stanno lasciando a bocca aperta, come nel caso della rivalità tra Queen's Quest e Oedo Tai, di cui ho parlato nello scorso video e che potete ovviamente trovare qua sul canale in caso non lo aveste ancora visto. Fatto sta che la faida nominata poc'anzi non è l'unica rivalità che ci sta lasciando perplessi, sì perché negli ultimi giorni abbiamo appreso di come siano nate delle guerre tra membri della stessa squadra, come nel caso di Fukuoka Double Crazy e Ewin Gori, o più precisamente tra Maika e Exina che saranno le protagoniste di questo nuovo video. Intanto permettetemi di salutarvi e di darvi il benvenuto sul canale, quindi Minna San Konnichiwa, vi chiedo cortesemente di lasciare immediatamente un like al video e di iscrivervi al canale attivando anche la campanella per non perdervi i prossimi contenuti. Supportare il canale per voi è completamente gratuito, ma per me significa moltissimo perché è solo grazie al vostro aiuto se questo progetto può crescere sempre di più. Quest'oggi dunque sono qui per parlarvi di ciò che sta succedendo all'interno di EXV, tra Maika e Exina che sono sempre di più ai ferri corti. Il tutto è iniziato durante lo show di domenica 2 giugno, quando nel main event Empress Nexus Venus ha difeso con successo gli Artists of Stardom Titles contro Oedo Tai. Già durante il match si erano intravisti dai problemi di comunicazione tra Maika e Exina, problemi di cui avevo già menzionato in un video precedente. Fatto sta che alla fine il trio composto da Maika, Mina Shirakawa e Exina erano comunque riuscite a sconfiggere Oedo Tai, proprio grazie al pin vincente di Exina ai danni di Momo Watanabe. Al termine del match però tutti i nodi sono venuti al pettine e Exina non ha più nascosto le proprie intenzioni, quelle di sfidare Maika in un World of Stardom Championship Match. Maika, sorpresa da questa richiesta, accettò comunque la sfida ufficializzandola per Stardom Deconversion, per preview che andrà in onda sabato 22 giugno. All'inizio pareva quindi che il match in questione non fosse altro che una semplice scazzotata tra amiche, un match importante, quello sì perché valevole comunque per la Red Belt, ma giocato in amicizia tra due compagnie di squadra. Man mano che però i giorni passarono, la tensione tra Exina e Maika crebbe sempre di più, fino ad arrivare alla conferenza stampa di martedì 11 giugno, dove la Stardom, oltre che annunciare la card di Stardom Deconversion, annunciò anche alcuni dettagli riguardanti il 5 Star Grand Prix 2024 e anche alcune protagoniste del torneo annuale più importante della compagnia, di cui parleremo però a tempo debito. Come stavo dicendo, durante la France Conference, Maika e Exina hanno avuto un intenso face-to-face che si trasformò presto in una rissa, con Exina che mise le mani addosso a Maika senza pensarci due volte, etichettandola con parole poco amichevoli e rispettose. Exina, amicofono alla mano, accusò Maika di non essere una buona campionessa e di non rispettare la Red Belt. In più, disse che lei accettò unicamente di entrare a far parte di Empress Nexus Venus solamente grazie a Mina Shirakawa, che, secondo Exina, è l'unica sua vera amica nel gruppo. Aggiungendo che non gli è mai importato nulla di Maika. Parole strategiche quelle di Exina per entrare nella testa di Maika o parole con un fondo di verità? Beh, nessuno può dirlo con certezza, ma è giusto ricordare come la formazione di ExV per mano di Maika e di Mina Shirakawa ha comunque permesso a Exina di tornare in Stardom e di conquistare per la prima volta nella sua carriera una cintura prestigiosa quale gli Artist of Stardom Titles. Senza i Nexus V, Exina non avrebbe mai raggiunto i traguardi che oggi può vantare e soprattutto non sarebbe probabilmente diventata campionessa. Sarà interessante capire se tutto quello che sta girando intorno a Maika e Exina farà parte di una storyline che morirà a Stardom The Conversion o se avrà seguito anche dopo il pay-per-view e se quindi Exina sarà propensa o meno a lasciare eventualmente Emprance Nexus Venus. Di certo con tutto il trambusto che sta succedendo nelle ultime ore ogni scenario è davvero possibile e se fino a qualche giorno fa il tutto potesse sembrare improbabile Ora mi permetto di dirvi che non è più così La Stardom è in procinto di subire grandi cambiamenti come già abbiamo potuto osservare dall'inizio dell'anno ad oggi grazie agli AD di diverse lottatrici di Rossi Ogawa AD che hanno cambiato la Stardom nel suo profondo, nel bene e nel male Cambiamenti che ci apprestiamo a vivere ancora una volta grazie alla faida tra Queen Sequest e Oedo Tai che vedrà il suo culmine tra poco più di una settimana Con questi presupposti pensare di vedere Exina abbandonare i Ex V o creare un'altra stable magari con Mina Shirakawa o qualcun'altra non è un'eresia Io spero che il tutto si concluderà comunque con una stretta di mano e un abbraccio tra le due gladiatrici e che i Ex V possa continuare a dominare la Stardom come ha sempre fatto dalla sua nascita con Maika e Mina Shirakawa al comando di una delle fazioni più importanti del 2024 Ma avremo ancora tempo comunque di parlare di questa rivalità e di tutto ciò che sta succedendo in Stardom prima del fatidico PPV di sabato 22 giugno Per ora non mi resta che ricordarvi che qua sotto in descrizione trovate tutti i link del progetto Donne tra le corde un progetto tutto dedicato al wrestling femminile mondiale Grazie al sito web di Donne tra le corde potete sempre rimanere aggiornati con i fatti che prendono di mira le vostre atlete preferite Dunque non dimenticatevi di seguire Donne tra le corde sui social per tutte le info a riguardo Prima di salutarvi vi invito ancora una volta a lasciare un like al video a condividerlo con quante più persone possibili e a iscrivervi al canale attivando anche la campanella per non perdervi i prossimi contenuti Aspetto con antia i vostri pensieri su quanto detto nel video pensieri che potete tranquillamente lasciare nella sezione qua sotto dei commenti Per oggi è davvero tutto See you next time Bye bye